Se quello che affitta la carrozza, pompa, pompa, quello che affitta un funerale, tomba, tomba, puccia. Se quello che affitta sei cavalli è capra, capra, puccia, quello che affitta un coglione, tomba, tomba, puccia. Se quello che affitta un film è Totò, Totò, quello che affitta la cuccia è Tata sulla carrozza di Totò, capra, e viene accettato, e viene indagato, molto riservato, e viene magistratto. Poi quando ho raccontato che hanno utilizzato la carrozza di Tata, è il funerale di Tata. Ma dov'è Totò? Se quello che affitta la capra, capa, capa, quello che affitta la tomba, è vivo, è vivo, capra. Se quello che affitta la compa, puccia, puccia, pene, quello che affitta la bamba, è partito sulla carrozza, la capra, capra. Ma dov'è la capra? Capra. AILANDER 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 DJ AILANDER AILANDER